Contro lo sciatta, nella partita in avvolare allo stasera di un picco, si sono trocati anche qualcuno con la presenza, perché le prime due partite in casa sono portati a superare 100.000 pichetti venute. La prima, questo è il governo, lui, si lo so, 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 lo so. 100.000, io vi 100.000 pichetti venute, grazie, grazie, grazie. E poi adesso, prima di che, come c'è già l'altro, Paolo c'è una cosa che faremo altre accordamento. Allora, prima di questo, per noi è la scioglia, che insomma è detto un po' così. Ragazzi, una piccola lezione, una piccola lezione. Allora, come si dice realmente la scioglia? La coscia. Avete capito? Per noi è la coscia, è una spazia, la coscia. Allora, la coscia ragazzi, mi raccomando. Allora, numero 21, la coscia. Fui! 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 Allora, adesso, a quattro la cosa qua. Adesso, però, per me, che io sono io, perché sono io, di musica e di musica e di musica e di musica e di musica. Ora, quando tu hai detto, con i social, si è più vicini alla gente. È esclusibile. Questo è esclusibile. E non so se esistono quanti milioni di post, compreso il mio. Il giorno, nella tua ufficialità, possiamo dire, ognuno di noi ha messo in una foto con la maglia della Roma con una masca. È vero o no? In una delegata. I tasti di mano con la mese a questo punto. Nessuno, come vedete, nessuno. Tutti hanno messo la foto con questa esistanza. Allora, Roma era proprio la instigata, abbiamo detto, tanto interviste, però Roma era un po' positivo. No, sicuramente, sicuramente quello che ha rappresentato la città nella mia infanzia. È vero che sia stato tutto il posto di più. È vero che sia stato tutto il posto di più ognuno di questa esistanza. È vero che sia stato tutto il posto di più ognuno di questa età. Ma non finisce qui, non finisce qui perché devi mettere il titolo, il titolo è il romanosco. Poi mi paremo tutti insieme, Roma, 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 però devi mettere il titolo. Io non so se tu hai già studiato uno qualche slacker. Hai studiato uno qualche slacker? Certamente. Io non so se tu hai già studiato uno qualche slacker.